A presto! Sì! 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 Abbiamo preso l'obiettivo easy, soldati. L'obiettivo Charlie è nostro. L'obiettivo Charlie. L'obiettivo Charlie. L'obiettivo Charlie. Come on! Come on! Possiamo ancora rimontare! Bel lavoro! L'obiettivo DOG è nostro! Fate attenzione! Abbiamo perso l'obiettivo EASY! Come on! Come on! That's it! Keep him in cover! Get him! It's straight! Ah! I need to mess with that one! That one's down! Allerta! L'obiettivo Charlie è stato perso! Find the lyrics! Add up! Add up! Serve supporto immediato a queste coordinate! Serve supporto immediato a queste coordinate! Serve supporto immediato a queste coordinate! Come on va! Just for a 5-5-6-7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9! Bene così! Abbiamo persociato immediato a queste coordinate! Abbiamo persociato a queste coordinate! Funco così! Abbiamo persociato! Abbiamo persociato! Abbiamo persociato a queste controllo! Abbiamo persociato a questo punto! L'obiettivo il punto! Sì. Obiettivo easy conquistato. Abbiamo perso l'obiettivo George. Sì. Siamo presi l'obiettivo Baker. Sì. 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 No! No! Siamo arrivati! ci penso io abbiamo perso l'obiettivo charlie quei maledetti hanno preso l'obiettivo avanti così che manca poco ho un bersaglio abbiamo conquistato l'obiettivo charlie abbiamo preso l'obiettivo fox aiutatemi grazie